Rompere, rompere in inglese, to break, to break, b-r-e-a-k, to break. Rompere è un verbo irregolare, al passato si dice broke e al participio passato broken, quindi break, broke, broken. Quindi come diresti in inglese è rotto? E come diresti l'ho rotto ed è ancora rotto, ma invece l'ho rotto in un tempo non specificato nel passato e non sappiamo la condizione dell'oggetto adesso, l'ho rotto, come diresti quello. Quindi è rotto, it is broken, participio passato. L'ho rotto ed è ancora rotto. L'ho rotto, non sappiamo però adesso lo stato presente attuale, quindi magari l'ho rotto ieri, l'ho rotto tre anni fa. Questo è passato, l'espressione I'm broke, state attenti qua perché non vuol dire mi sono rotto. Cioè I'm broke vuol dire sono senza soldi, ok? È un'espressione idiomatica e vuol dire sono senza soldi. I'm broke, sono senza soldi. Voler dire, voler dire, oppure voglio dire, oppure significare, per dire questo in inglese il verbo è to mean, m-e-a-n, to mean. Ok? Questo è un verbo irregolare. Al passato si dice meant e al participio meant, ok? Quindi mean, meant, meant. Quindi come diresti cosa vuol dire, cosa vuole, cosa vuol dire. Quella parola lì cosa vuol dire, oppure cosa vuoi dire, cosa vuoi dire, cosa vuoi dire. Cosa diresti per dire quello, cosa vuol dire e cosa vuoi dire. E come diresti non è, non è quello che volevo dire, volevo dire, non è quello che volevo dire. Come diresti quello, quindi cosa vuol dire, quella parola cosa vuol dire. Cosa vuol dire, cambiamo solo il soggetto, quindi what does, what do, scusa, what do you mean. What do you mean. E non è quello che volevo dire. Quindi questa frase qua, cosa vuol dire. È una frase abbastanza importante per uno che sta imparando l'inglese. Perché qua potete, al posto di it, potete sostituire it con la parola che voi non conoscete. E quindi potete dire, per esempio, che ne so, what does, non so io, what does, what does ascertain mean. Quindi qua mettete la parola che non conoscete, no, e poi fate la domanda, what does ascertain mean, e vi dà, o la parola che volete, no. Allora, per dire, fa male, fare male, o fa male, fare male, devo dire to, to hurt in inglese, to hurt, h-u-r-t. E hurt è anche irregolare, al passato si dice hurt e al participio si dice hurt, quindi hurt, hurt, hurt. Quindi come diresti, fa male, fa male, come diresti quello in inglese. E provi a dire mi, mi fa male, mi fa male, come diresti mi fa male, oppure non, non mi fa male, non mi fa male, proviamo quello. Quindi fa male, beh, è una domanda, e stiamo parlando di, cioè, la cosa fa male, quella cosa lì fa male, e quindi è terza persona, quindi does, does it hurt? Does it hurt? Mi fa male, quella cosa mi fa male, quindi it, it hurts, it hurts me, mi fa male, it hurts me, oppure it doesn't hurt me, non mi fa male, it doesn't hurt me, it doesn't hurt. Puoi mettere me come vuoi, cioè, non è obbligato mettere me. Prendere, prendere abbiamo detto to take, prendere si dice to take, e quindi al passato took, al participio taken, ok? Adesso guardiamo le preposizioni, io ti avevo detto che con le preposizioni, se segue un verbo, devi usare, cioè, quel verbo deve essere nella forma con ing. Quindi avevamo visto, per esempio, non ho voglia di, se ti ricordi, non ho voglia di o, ho voglia di, era feel, quindi non ho voglia di farlo. Proviamo a vedere se ti ricordi questo, non ho voglia di farlo. E questo era, I don't feel like, I don't feel like, e poi c'era farlo, doing it. E avevamo questa preposizione e seguiva il verbo con ing. I don't feel like doing it. C'era che cosa avete voglia di fare, per esempio. Che cosa, vediamo se riuscite a dirmi questo, che cosa avete voglia, voglia di fare. C'era anche questo. E questo in inglese, quindi what, che cosa, what. Avete voglia, do you, è una domanda, quindi do, what do you feel like, e poi c'era di fare, però, alla forma in, in, perché c'è il like, quindi what do you feel like doing, ok? What do you feel like doing tonight? Cosa avete voglia di fare stasera? What do you feel like doing tonight? Ok, vediamo allora, proviamo per esempio, è partito, è partito, lui è partito, prima di aver finito il suo lavoro, è partito, prima di aver finito il suo lavoro. Ok? Proviamo a dire quello. E proviamo a dire, è partito, dopo aver finito il suo lavoro. Proviamo a dire, è partito, dopo aver finito il suo lavoro. Quindi, he left, è partito, he left, prima, before, having, poi qua abbiamo have, quindi partecipio, segue, quindi finished, il suo lavoro, his work. Ok, he left, before having finished his work. È partito dopo aver finito il suo lavoro, quindi he left, he left, after, after, having, finished, finished his work. Ok, proviamo a vedere quindi, come diresti, senza sapere, senza sapere, sapere quando tornerebbe, quando tornerebbe. Come diresti, quello, senza sapere quando tornerebbe. Quindi, senza sapere, quindi senza without, knowing, know è il verbo, ing, without knowing, when, poi abbiamo ebbe, quindi questo è would, lui ebbe, quindi when he would, poi tornare, cioè venire indietro, when he would come. Back, ok? Movimento all'indietro, quindi when he would come back, without knowing, when he would come back. Punire, punire in inglese, si dice to punish, to punish. Quindi, era punito, he, 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 was, oppure she, was punished. Verbo regolare, he was punished. Ok, he was punished. Come diresti, era punito, per, per aver commesso, commesso, un crimine. Come diresti, quello. Quindi, he, in inglese, he, he was punished. Punished, poi abbiamo per, quindi for, che è la nostra proposizione, quindi avere al, forma in, quindi having, poi commesso, committed, committed, un crimine, a crime. For having committed a crime. He was punished for having committed a crime. Quindi, al posto di usare l'infinito, dopo le preposizioni, come in italiano, in italiano se c'è una preposizione segue con l'infinito, in inglese il verbo che segue ha la forma con ing, ok? Dopo la preposizione. Dopo la preposizione.